allora io voglio automatizzarle ragazzi così non farò più avanti indietro per quello qua è rimasto così, perfetto ora andiamo a quelle del deserto che ancora non hanno finito perché non hanno finito qua ah perché forse manca il cosa il chunk loader, porca loggia waypoint, casa mi sa che manca il chunk loader vabbè no, perché sto andando ancora non hanno finito ok, qua come si è messi sta continuando abbiamo altri propolis qua ha finito andiamo a dare una sbirciata su e poi ragazzi molto probabilmente chiuderemo il live da quando è che siamo in live ragazzi? è un po' è un'ora e mezza è un'ora e mezza è un'ora e mezza ok, due chip me le ha fatti continuerò a fare i chip finché non finiscono bene allora andiamo un po' qua è così ah è vero qua non l'ho controllato altri cinque vai mettiamo altre bistecchie due l'ho messo qua qua sta cucendo no no via ma mia quanta roba quanta roba abbiamo ragazzi devo iniziare a smistare il tutto ciò poi qui continuiamo a raccogliere a ripiantare queste poi mi serviranno tutte per la cosa lì la towncraft ne è caduta una qua dentro ok ragazzi io se volete chiudere sono a posto ma ho frattuto io sto cercando un alberello azzurro vediamo io per l'azzurro ce l'avevo vicino casa no ma ci sto cercando se me ne troppa uno però il nostro non vuole uscire perché anch'io lo devo piantare vicino casa a me oggi vedevo i pallini che giravano per la towncraft infatti me l'ha scritto anche a me il messaggio di mettermi uno vicino inizia ad essere piccoloso da me ah poi abbiamo i payinajar qua i cosi ne ho trovata una strana di pergamena l'u e c'è tante di quella roba me ne manca solo uno da scoprire non so qual'è si ha tanta tanta roba è un cristallo c'è una bacchetta boh c'era scritto le bacchette magiche di solito c'è un macello ah l'automatico l'ho fatto anch'io aspetta vediamo il towerometer no l'ho fatto io il towerometer l'ho fatto vediamo se riesco a ricercare con i cervelli qualcosa no non l'ho fatto il towerometer sto scherzando si chiama si chiama la pergamena oh no sto perdendo tutti i cervelli vaffanculo un fied taumic field theory unified taumic taumic field theory c'ha tipo due quattro sei otto è buono sono in centro gli altri nomi non li fa leggere tutti in arabo l'ho trovata con la piuma andiamo a vedere come sta Mario ciao Mario ok ragazzi io direi di chiudere il live si si l'ho fatto abbastanza oggi ho fatto un cipro di pergamena qua cadi acqua la baccata può essere io ho trovato un posto con due dungeon un geon però quelli là della come si chiamano quelli normali? quelli no quelli blu quelli di viola quelli blu e viola quelli viola e blu ah uno era vicino a casa mia eh no io sto proprio tipo dall'altro lato del mondo va bene con le con i come si chiamano lì con lì con gli shard eh voglio con le shard perché non ho visto uno ve ne voglio andare vedere sai che c'è la cesta in mezzo no? no adesso mi bento Eh devi provare ad andare da sotto Da sotto hai detto Ma ci provo Aspetta allora Io ci provo ragazzi Ok ragazzi Io vi ringrazio di averci seguito anche a quest'ora Un bacione e un abbraccio a tutti Buonanotte Spero che la serie vi stia piacendo Ho trovato la portal gun Come hai trovato la portal gun Ho trovato la portal gun Quella con la bistecchina Non ci credo Ma noi ragazzi Ci faremo sabato Sapete perchè sabato Come tutti i sabati faremo l'evento in live Tutti insieme Non andremo a uccidere i Retair Andremo a uccidere Quei cosi la ragazzi E ne uccideremo ben 5 Una testa Ragazzi grazie a tutti ancora Un abbraccio e un bacione Buonanotte Ciao ciao Buonanotte ragazzi Buonanotte ragazzi Buonanotte Galessara Grazie a tutti.